Fabrizio Lungarini, parliamo della farmacia dei servizi e dell'inaugurazione del Cardio Point. Insomma, per voi una novità importante? Una novità importante per l'innovazione delle nostre farmacie. Inauguriamo un Cardio Point che significa telemedicina o telediagnostica, più specificatamente. I nostri clienti, invece che rivolgersi a strutture sanitarie, possono venire dalle nostre farmacie, effettuare un elettrocardiogramma e ricevere comodamente via email un certificato medico, valido a tutti gli effetti, per svolgere ad esempio attività sportiva non agonistica, al tutto a prezzi certamente popolari, adeguati a una farmacia comunale e permettendo alle nostre strutture di fare un salto nel futuro. Tutte le farmacie comunali hanno aderito a questo progetto, quindi i cittadini possono tranquillamente recarsi in uno dei cinque punti delle nostre farmacie comunali sparsi in tutto il territorio cittadino, prenotare la propria visita e se è presente in quel momento il macchinario presso quella sede, svolgere direttamente l'esame in loco. Ci spiega nello specifico di che cosa parliamo, qual è questo servizio, insomma a che cosa serve? Sono dei servizi aggiuntivi che la farmacia propone, in questo caso di elettrocardiogramma, oltre pressorio, oltre cardiaco e noi effettuiamo qui la misurazione del tracciato che poi viene inviato per via telematica in una piattaforma dove avremo un referto firmato dal cardiologo che fa parte di questa iniziativa. Quindi chi è interessato cosa deve fare? Può venire in farmacia per informarsi, nel momento in cui c'è disponibilità anche al momento stesso si può effettuare la misurazione e nell'arco della giornata arriverà il referto per via telematica. Per appuntamenti si può chiamare in farmacia o presso anche le altre farmacie del gruppo di CSP.